Ciao amici, allora, libro di cui parliamo oggi e che forse farà tirare giù il video dal titolo adesso. Vediamo, insomma. Se state vedendo questo video è andato su tutto, a buon fine. Francesco Filippi Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo, Bollati Boringhieri edizioni, 12 euro del 2019. Era uscito anche con La Repubblica, qualche tempo fa, ed è lì che l'ho visto, ed è lì che ho deciso poi di comprarlo. Allora, chi è prima di tutto Francesco Filippi e quali sono gli intenti di questo libro? Che possiamo definire saggio storico? Poi vediamo. Non vuole fare una sorta di pedagogia dell'antifascismo. Vediamo se ci riesce. Allora, beh, Francesco Filippi è uno storico della mentalità e formatore. E fa parte di questa associazione che si chiama Deina, o Deina, non lo so, che organizza viaggi nei luoghi della memoria. E quindi Francesco Filippi ha creato, diciamo, una bozza di questo libro come aiuto, ok, per chi accompagnava ragazzi e persone varie sui luoghi della memoria, per poter rispondere alle classiche domande e obiezioni che vengono fatte sul fascismo, che sono frutto di anni di fake news, chiamiamole così. Allora, come è organizzato questo libro? Beh, è organizzato in domande, ok? Ad esempio, è vero che le pensioni sono davvero state introdotte da Mussolini, oppure era davvero stato lui a iniziare la campagna di bonifica, eccetera. Oppure il ruolo delle donne nel fascismo, che è un ruolo un po' che è stato mitizzato dalla propaganda. Francesco Filippi risponde da storico, quindi da una serie di indicazioni sulla storia, ad esempio, delle pensioni, mettiamola così. E in teoria, e qua è forse un po' l'unico problema del libro, cioè che a me sarebbe piaciuto avere effettivamente un modo di rispondere a queste affermazioni una volta letto questo libro, che comunque si legge in una giornata, eh. Un paio d'ore lo legge tranquillamente. In verità, sì, ti dà tante informazioni corrette su quello che è successo davvero, ma non ti fornisce mai un modo, diciamo, per rispondere, ok? Quindi questo libro è molto adatto sicuramente, non so, ai professori di storie, ai professori di educazione civica, non so, qualcosa del genere, delle superiori. Perché può essere un ottimo spunto per costruire una serie, una o due lezioni su questo argomento, cioè su la propaganda fascista, sul come nel tempo si sono mantenute queste idee e come poterle smantellare. Però diciamo, ecco, che se voi prendete questo libro e lo date in mano a un alunno delle superiori, arrivato alla fine della lettura, non so. Non so se saprebbe controbattere a queste domande scomode, diciamo così. Allora, vi faccio un esempio. Quando parla di pensioni, che è il primo capitolo, dove si parla di previdenza sociale, ci racconta di come, vabbè, in realtà non è stato Mussolini, ovviamente, a introdurre le pensioni, perché esistevano già dal 1895, ci racconta perché, per come, la storia e l'evoluzione degli istituti che hanno erogato assistenza, previdenza sociale, ok? Poi dopo arriva, ovviamente, a Mussolini, dice quello che ha fatto Mussolini effettivamente, ha accorpato, ha fondato l'INFPS, quello che poi è diventato l'IMS, eccetera. Ma una volta che io ho queste informazioni, cioè tutte le informazioni corrette, voglio sapere come usarle, cioè come Mussolini ha usato questo nella sua propaganda, come chi è venuto dopo ha costruito il mito delle fake news, come sono arrivate fino a noi adesso, e quindi io come faccio a smontarle? Perché avere le informazioni ma non sapere come usarle è poco utile, quindi mi sarebbe piaciuto avere qualche indicazione sul come rispondere, non solo sul cosa rispondere. Questo libro è sicuramente molto interessante, è sicuramente consigliato, soprattutto, come vi ho detto prima, per chi si occupa di questi argomenti. L'autore, no, sembra quasi dire, questa è la nuova pedagogia antifascista, la prendete ed è perfetta. In verità è un ottimo inizio, quello sicuramente. Niente, quindi, Mussolini ha fatto anche cose buone, la risposta è ovviamente no. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo di Francesco Filippi. Speriamo che questo video non venga tirato giù in tempo zero. Ciao!